3 ragazzi bisogna staccare solo 3 altre 3 altrimenti non si esce vivi così, giusto? lei dice 1 3 2 3 4 è uscito il 25? niente ragazzi è non uscito ricominciamo da capo, dai allora vogliamo sentire le mani e le voci su, 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 su 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 20 21 21 22 15 15 20 22 22 23 23 23 24 23 24 24 25 25 23 24 25 25 26 26 28 28 29 29 30 Carrellazzo, pegliazzo, rii, 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 rii. Guardi addosso, quanti sogno, non vorrete direte via. Posso solo questo sogno, scusa ma la mia fantasia. Giù l'anno, se ne avvile io, con le scimmie per la scendese eroi. è normale che qualcuno in garanzia due lui credo speriamo non vorrei disurbare nessuno però 4-5 margolette le so quindi allora adesso mi piace essere bastardo così guarda faccio vedere una bella foto è venuta male no no tranquilla tanto a me mi piace torturare un po' il bello è che sono tanti il basso pesa è il peso del successo non ci posso fare niente pure io mi sto stancato però che devo fare ma non vorrei disurbare nessuno dicendo che e Marlon Brando è sempre lui Marlon Brando è sempre lui ma non vorrei disurbare nessuno Grazie a tutti Grazie a tutti.